Vedrete arrivare? Cominciamo subito! Ora ti mostro un paio di cose Umovate, torna qui! Oh, come si è qui? Tu che è Francesco? Chi è Francesco? Sola qui! Guarda come filo! Mi sono mai andato così veloce? Le vostre speciali sono la mia specialità Su! Tu non mi renderà superiore? Wow! Già, posso battere tutte le macchine grosse! Osserva Guido e impara! Ehi, ho il lato di uno! Ciao, bugger! Il muro ti renderà superiore? Guarda come filo! Ora ti mostro un paio di cose Ci vediamo dopo! Su! Sono un paio di veloce! E' un paio di veloce! E' un paio di veloce! Torna qui! Torna qui! This is a gas, man! Fantastico! Su! Su! Osserva Guido e impara! Posso vincere con un po' gara così? Hold this and I cannot fly too! Sino!